Sono già più di 500 i cittadini che hanno sottoscritto con la loro firma la richiesta di interventi di restituzione ambientale alla Ponte Nossa Spa, la ditta che nell'omonimo paese all'imbocco della Val del Riso smaltisce fumi di acciaierie ed altri rifiuti con un impatto molto pesante soprattutto sui territori di Ponte Nossa, Gorno e Premolo. Alle 400 firme già raccolte in modo informale dal Comitato dei Cittadini e dalle Gambiente si sono aggiunte le 100 raccolte in circa un'ora al tavolo allestito questo martedì in occasione del mercato settimanale di Ponte Nossa. Perché la Ponte Nossa S.P.A. è una situazione annosa, perché adesso c'è in ballo l'autorizzazione all'aumento della discarica, noi siamo convinti che si può ridurre la discarica, il volume di discarica e creare nuove occupazioni. Noi non vogliamo che chiuda la Ponte Nossa S.P.A., vogliamo che vengano creati nuovi posti di lavoro, è possibile farlo e lo dicono anche i documenti della Ponte Nossa S.P.A. già dal 2002. Noi stiamo cercando di circoscrivere la raccolta firme a questi paesi. C'è anche gente di Pare, di Oneta, di Gandino, piuttosto che di Clusone che ci chiede informazione e che vuole firmare. Noi raccogliamo anche quelle firme, però teniamo ben presente l'obiettivo di informare i cittadini di questo territorio. La gente confrontandosi con noi e capendo questa cosa, perché noi non vogliamo fare terrorismo. Noi semplicemente, ripeto, vogliamo dire informazione e poi dire il volume di questa discarica si può diminuire e si può creare nuova occupazione cambiando nuove tecnologie. Questa cosa vuol dire ovviamente che ci saranno degli oneri in più, dei soldi in più che l'azienda dovrà tirare fuori, però per l'interesse di tutti penso che gli amministratori possano chiedere questa cosa.